Alessandra Ciao, io sono Alessandra, ho 14 anni. Sono stata vittima di bullismo per due anni. Da domani cambierò scuola perché qui non ce la faccio più. Anche io cambierò. Sono una ragazza completamente diversa. Nessuno si prenderà più gioco di me. Nessuno si prenderà più gioco. 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 Nessuno si prenderà. Nessuno si prenderà. Nessuno si prenderà più gioco. Nessuno si prenderà più gioco. Nessuno si prenderà più gioco. La scuola strana. La scuola strana. Ah, avete sentito la ragazza? La sa parlare bene la nostra lingua. Ha detto che la dobbiamo lasciar stare. Ma qua forse non hai capito che comandiamo noi. Ades! Alessandra, vieni, vieni, devi parlare. Probabilmente già so di che cosa vuoi parlare. Professoressa, ieri stavo scherzando con Zahira e mi sono un po' lasciata prendere l'amore. Sto scherzando? Con Zahira? Ale, vogliamo dire la verità, io ho visto tutto e per colpa dura Zahira rischia la sospensione. Eh, forse io l'ho sbagliata. Mi ricordo che anche io nella vecchia scuola veni augurizzata e mi sentivo malissima. Eh, date la sola mia sospensione. Lei non c'entra nulla. Guarda, devo dire la verità Alessandra, questa cosa mi fa un po' comune e apprezzo molto la tua sincerità. Però la sospensione purtroppo nessuno te la può togliere e credo che tu comunque debba chiedere scusa a mio compagno a Zahira. Non lo trovi? Nei compagno a Zahira quando hai seguiti o lea distrette. No lo trovi. E' la presenza penserai vista da queste cose. Sio, Sio Pesce, il tra tossedo ralistato reactedino e le Hud withdraw mie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.